Per il Taranto è tempo di decisioni tattiche. La gara contro la Casertana ha confermato quanto già si sospettava in precedenza. La squadra è sì versatile, ma fa fatica a recepire cambiamenti repentini in corso d'opera, soprattutto in situazioni di svantaggio. Il passaggio dal 3-5-2, in realtà mascherato per 3-4-3 considerando la posizione più avanzata di Romano, interpretata però male al 4-2-3-1, ha generato confusione, tant'è che lo stesso Capuano nel post-gara ha riconosciuto che paradossalmente il Taranto ha fatto meglio nel primo tempo. L'unedì sera a Potenza si potrebbe tornare all'Antico. Bifulco sconterà l'ultimo turno di squalifica, ma non è detto che lì davanti venga confermato il tridente. Più realistica invece la possibilità di passare di nuovo al 3-5-2 con Cianci e Canute terminali offensivi, il tutto in attesa che il numero 14 torni arruolabile. Difficile anche la possibilità che Capuano decide di affidarsi in partenza al 4-2-3-1. Quella della linea 4 è un'opzione, ma senza Riggio squalificato sarebbe più che altro un esperimento azzardato, per di più contro un Potenza che seppur in crisi vanta giocatori di assoluto spessore offensivo. su tutti Caturano.